Con la riproposizione di otto argomenti di natura civile come la riforma della RAE, del sistema di carcere duro e l'elezione del Parlamento, il Partito Radicale questa mattina ha tenuto una conferenza pubblica per l'avvio di una raccolta firme. Vediamo. Otto firme contro il regime, otto argomenti che l'Italia dalla fine degli anni 70 ha avuto modo di conoscere da vicino con il dialogo interno al Paese, talvolta anche fonte di accese discussioni. Amnistia, revisione del sistema delle informazioni interdittive e delle misure di prevenzione antimafia, scioglimento dei comuni per mafia, incarichi extra giudiziari, elezione del Parlamento italiano in collegi uninominali, riforma della RAE, riforma del sistema di carcere duro e della legge per il rinnovo del Parlamento europeo, temi affrontati oggi in una conferenza pubblica dal Partito Radicale. Lo Stato italiano è un delinquente abituale, siamo stati condannati più di un migliaio di volte dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo sia per la lunghezza dei processi e sia per le condizioni delle nostre carceri. E quindi noi cerchiamo di risolvere questo problema attraverso queste cinque proposte. Dopodiché abbiamo due proposte per quanto riguarda i sistemi elettorali. Noi proponiamo di passare al sistema elettorale maggioritario sia per Camera e Senato, perché garantisce la governabilità del Paese, mentre per il Parlamento europeo proponiamo un sistema proporzionale per garantire una rappresentanza maggiore. L'ultima proposta è quella per la riforma della RAI. Noi proponiamo che il servizio pubblico sia ridefinito nei suoi cardini principali e che venga affidato tramite gara sia nazionale che locale a dei privati. Presente è anche Laura Famolari del Partito Democratico in mesta di consigliere comunale, la quale rimarca l'importanza di un dialogo sui temi civili. Io sono qui in qualità di consigliere comunale che autentica le firme di coloro che sottoscrivono appunto gli otto quesiti del referendum. Sono contenta di farlo perché ritengo che sia giusto in questo momento alzare anche il tono del dibattito sui temi civili. Mi auguro che rispetto ai punti affrontati dal Partito Radicale ci sia un dibattito di approfondimento che possa essere costruttivo per tutti.